L'Italia in deflazione, sfide ed implicazioni La deflazione è un termine che fa sobbalzare i responsabili delle politiche economiche e preoccupa gli economisti in tutto il mondo. Questo fenomeno economico, caratterizzato da una diminuzione generalizzata dei prezzi dei beni e dei servizi, ha il potenziale per generare un ciclo pericoloso di rallentamento economico e contrazione. Oggi, ci concentriamo sulla situazione in Italia, un paese che sta affrontando il rischio della deflazione nel 2023. La deflazione in Italia. Negli ultimi anni, l'Italia ha lottato con una crescita economica modesta, un alto debito pubblico e una bassa inflazione. Quest'ultimo aspetto, l'inflazione, è una delle principali preoccupazioni per i responsabili delle politiche economiche. Nel 2022, l'Italia ha sperimentato tassi di inflazione inferiori all'1%, e questa tendenza sembra continuare nel 2023. Questa bassa inflazione ha generato preoccupazioni riguardo alla deflazione, un fenomeno in cui i prezzi diminuiscono costantemente. Cause della deflazione. La deflazione può essere innescata da diverse cause. In Italia, una delle principali ragioni è la debolezza della domanda interna. La pandemia di Covid-19 ha colpito duramente l'economia italiana, causando perdite di lavoro e una riduzione della spesa dei consumatori. Questo ha portato a una riduzione della domanda di beni e servizi, che a sua volta ha messo pressione sui prezzi. Inoltre, la deflazione può essere causata da eccesso di capacità produttiva e da una mancanza di investimenti. Se le imprese producono più beni di quelli che il mercato può assorbire, tendono a abbassare i prezzi per stimolare la domanda. Questo ciclo può portare a ulteriori tagli nella produzione e all'aumento della disoccupazione. Implicazioni della deflazione. La deflazione può avere implicazioni negative e significative per l'economia. In primo luogo, riduce i profitti delle imprese, poiché i prezzi più bassi significano margini di profitto più stretti. Questo può portare a licenziamenti e ad una contrazione dell'occupazione. In secondo luogo, può aumentare il valore reale del debito, poiché il valore nominale dei prestiti rimane invariato mentre il potere d'acquisto diminuisce. Questo potrebbe mettere a rischio la stabilità finanziaria. Infine, la deflazione può portare a un circolo vizioso di diminuzione della spesa dei consumatori. Se le persone aspettano prezzi ancora più bassi in futuro, possono rimandare gli acquisti, il che può ulteriormente rallentare l'attività economica. Le risposte possibili. Per affrontare la minaccia della deflazione, la Banca Centrale Europea BCE può utilizzare una serie di strumenti, tra cui tassi di interesse più bassi e politiche monetari accomodanti. Tuttavia, la BCE non è l'unico attore chiave. L'Italia e gli altri paesi membri dell'Unione Europea devono anche adottare politiche fiscali che sostengano la crescita economica. In sintesi, l'Italia sta affrontando una sfida economica significativa sotto forma di potenziale deflazione nel 2023. È cruciale che i responsabili delle politiche italiane e europee adottino misure efficaci per prevenire una spirale deflazionistica e sostenere una ripresa economica sostenibile. La vigilanza e la cooperazione sono essenziali per evitare che la deflazione si trasformi in una crisi economica più ampia.